Se l'ho messo pure in bosta! E tu, l'angoro bevi, vai con croccia! E tua madre, dietro la porta, aspetta a te! Non si mangia più, non si beve più, non si dorme più, non slip, non slip, no! E tua madre, dietro la porta, aspetta a te! Toccazza di finale se... Ti ho detto cento volte che in questa casa non è un albergo, qua non si viene soltanto a mangiare e a dormire, no! Quando ti puoi, dai, fai quello che cazzo ti pare fino a quando stai qua dentro, fai quello che ti dico io sono la famiglia fuori da qua! E tua madre, dietro la porta, aspetta a te! Toccazza di finale se... Eeeh, andro! La vita è una ruota, oi! Oggi tocca a me! E domani sicuramente tockerà pure a te, oi! Quando ti foderai! E farai un figlio, mio nipote, io sono il nonno, il gran padre! Quando tuo figlio crescerà, lo sai io che cosa farò, oi! Quando tuo figlio avrà 17, 18 anni, lo chiamerò da me e sai cosa gli dirò? Nonno, vi qua, ecco tu i duecenti euro, e non arrivi nif prima delle sei! Eeeh! 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 Eeeh!